Ciao Scrivetevi, scrivete un commento Un commento divertente se volete Ma lasciate con un bel like Allora questo gioco si chiama Among Us Che si può giocare in online E io mi sono Il proprio fanato di cacoletta No che Che proprio non lo so Perché andiamo Fin the game con tutti i nostri amici Se saranno online Allora giocheremo con loro Io penso che andremo a giocare con Drago E poi qui ne siamo quattro E questo è il mio personaggio Tutto colato di viola con i fiorelli in testa Qui ne siamo solo quattro E vi ricordate che mi chiamo Francesca 44 Mi trovate su Youtube E Pasquale Marino Allora certo che qui ne mancano assai Perché nessuno Andiamo a prendere Un altro Così potremo vedere Se c'è qualcuno Con più tanti personaggi Così già la facciamo No disconnetti Proviamo un'altra volta Ecco qua Per che fa questo Non lo so Proviamo un'altra volta Perché non so che cosa sta succedendo Perché non prima Sempre la connessione Si sta caricando Non esce nulla Ma sempre disconnetti ragazzi Non è possibile che se ti ricordate Non è possibile che la connessione E' sempre disconnetti Vedete Proviamo questo E' disconnetti Non gioco Quello Proviamo 9 Ok Qui ne siamo Ora 6 Mi rimane sempre Colore Ah Ne siamo 6 E' un impostore Chi potrà essere Ragazzi Allora Io mi voglio vedere Se sono Anche l'impostore Perché io non ce la voglio essere Cioè E' brutto fare l'impostore Un po' è bello Eh Oh Andiamo Andiamo Dai ho fatto No Per fortuna il tempo Non è scatuto Perché ho giustato Qualcuno ha premuto il pulsante Discorso Vediamo Stalin Ha premuto il pulsante Vediamo chi vota Ora E questa qua sono io Allora Io Io Butterei fuori Questa Perché forse lui Sarà Io ho votato Per me Io ho votato pure Vediamo se Baldo Voto Allora Certo che ci mette Le trempe Per votare Ok Ha votato No Questo mi voleva buttare fuori Cioè No Qualcuno ha buttato Il grigio fuori E lui era Un impostore Ok Ok Ora Chiede un po' Non la so Comunque Andiamo Che cosa Che cosa è questo Che cosa è questa Allora 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 Matteo Ha premuto il pulsante Perché deve essere Un corpo Di uno Quello Che era Un corpo Quindi Io voto Per Lui Che cosa è questo Che cosa è questo Che cosa è questo Scusatemi, allora, qualcuno, allora, ti hanno votato, io voterò pure io, voto pure io, votate per me, vediamo chi butta qualcuno fuori, hanno buttato il marrone, e l'uno era impostore, ora rimaniamo solo uno, due, tre, quattro, quattro rimaniamo perché uno l'ha buttato fuori, Quanto è? 0, 6, 2, 9, 0 Per fortuna, c'è ragazzi, stavo quasi per scadere il tempo, stavo a 13, e qui aspetta che si può essere il mio cuore, Oh, il bianco mi ha ucciso, vabbè, sono diventato, uno, ah, qualcuno ha scoperto il mio corpo perché sono morto, E il tablet, che strano ragazzi, il tablet si è tutto rotto, e gli altri sono rimasti vivi, solo altri sono rimasti vivi perché noi rosiamo, pure noi morti, barda e perla, sarlo e tilino, sono diventi vivi, Quindi chi butterà fuori? Qualcuno? Qualcuno ha buttato via il rosso, perché forse lui era il impostore, sì, il rosso era il impostore, Era solo il bianco, ragazzi, cioè non ci posso credere, era solo il bianco, Aspettate, la velocità esce sempre, Eccoci qua, e noi rimaniamo sempre 4, non lo so, Non lo so, ma andiamo da qualche parte, dobbiamo aggiustare questo, aggiustiamo, Allora, qualcuno ha scoperto che il corpo di qualcuno è morto, Allora, io voto per, dico per perla, la bella, ma buttarla fuori, io la buttarla fuori, Vediamo questi altri due, Matteo e Bardo, devono ancora votare, Bardo ha votato, ora manca solo Matteo, Allora, No, no, no. Spetta, spetta.